Come si fa a contare i morti? Alcuni non sono stati mai più ritrovati. Proviamo a fare come a scuola, contiamo gli assenti. E ma mica tutti gli assenti sono morti. Eh già, è una conta difficile, ci vuole tempo. Alla fine della conta sono 1917, la disfatta dell'uomo che travolge se stesso, resiste a se stesso, dilania distrugge a niente a se stesso, dimentico della sua essenza. Su l'unico monte non sommerso approda una piccola barca. Di tanti uomini un solo superstite, di tante donne una sola superstite. Non è che la fiumara si risveglia. Papà, papà, si è portato via la macchina. I bambini stanno piangendo, hanno paura. Calano i fiumi e spuntano i colmi. Il mare riacquista un lido. E gli albi raccolgono i torrenti. Emerge la terra. Spuntano le cime dei boschi. Con i rami ancora vinti dai residui di fango. Attenzione, attenzione. Tutte le famiglie che abitano a ridosso degli algini del basso Polesine, Evacuare. Evacuazione immediata. Attenzione. Allarme generale. Ma come? Ti qualche vacatia adesso? Dopo tutto quello che avevo fatto? Ma no, papà, bisogna andare la sette tre volte più grande di quella del T-7. Ma no, non posso andarmi adesso. Tutto quello che avevo fatto. Tu bisnonno, tu nonno, mi, tu barba. No, papà, bisogna andare. La vita, la labio. Bisogna andare. 143 frane. Iniziarono le quattro del pomeriggio E continuarono con la costanza di uno stillicidio Ma sempre sorprendenti Scesero a velocità diverse E con rumori diversi Per Linda è come tornare indietro nel tempo Vede la figlia impaurita, agitata E si rivede nel terrore della ragazza Rivive la tragedia di Sarno Quando aveva l'età Che ha sua figlia oggi Ascolta Il tuffo del sangue Moltiplica Per il quadrato delle stelle fisse Per il grido Del capretto sgozzato Ogni Pasqua Natale E poi Dividi Per il silenzio Di un minuto dopo Quanto vale un metro cubo d'acqua? Allora Allora Per il silenzio Allora Quanto vale un metro cubo d'acqua? I Allora Allora Allora